Grazie mille Camillo. Volevo ringraziare tutti voi delle istituzioni che avete aderito a questa presentazione oggi perché è molto importante per il progetto mostrare come la parte politica sostenga fortemente questo tipo di iniziative. Volevo ringraziare ovviamente tutti voi e la giornata di oggi è volta proprio a presentare quello che è la complessità di questo progetto che come appunto si accennava in precedenza non è solo fare cultura ambientale ma vuole essere una declinazione per età e per target ad obiettivi. Nel senso che per le primarie è chiaro, è importante dare un messaggio perché si parte da piccoli ad imparare il rispetto per l'ambiente e come possiamo collaborare con le nostre azioni quotidiane nel portare avanti una vita che rispetta l'ambiente e sapere anche come avviene la produzione energetica piuttosto che la rielaborazione dei rifiuti, la differenziata e quant'altro per i bambini è importante perché diventa una leva anche verso gli adulti. Poi noi abbiamo pensato questo progetto che l'anno scorso è partito con un workshop diretto alle secondarie di primo grado quest'anno appunto i target sono tre, le primarie, le secondarie di primo e di secondo grado ognuno di questi target ha un progetto e un indirizzamento dei contenuti educativi e formativi differente per le primarie ho già accennato, per le secondarie di primo grado vuole essere anche un indirizzo verso quello che sarà il successivo percorso scolastico con le scuole superiori e per le secondarie di secondo grado infine vuole essere una formazione che volge poi ad un'opportunità verso quello che saranno le attività del futuro e la formazione di professionalità attualmente molto ricercate sul mercato ma ancora così poco e difficilmente disponibili. Inizio con la presentazione del progetto scuole per le primarie. Le società che hanno aderito a questo progetto si sono rese disponibili a realizzare dei contenuti ad hoc proprio sui temi del clima, dei rifiuti e dell'economia circolare e dell'energia. Questa prima slide che contiene appunto ciò che saranno i contenuti forniti alle scuole in forma di filmato cartone animato proprio per raggiungere meglio quello che è l'utenza e a cui è destinata e quindi per trasmettere in modo più efficace il messaggio. Qua vedete che appunto a questo hanno aderito e partecipato ovviamente in modo proattivo e anche rispetto all'ideazione e alla realizzazione del progetto le due direzioni del comune di Milano relative appunto all'educazione e alla mobilità e trasporti di cui io faccio parte e successivamente appunto anche la città metropolitana per la parte delle scuole secondarie. Il clima è uno dei temi ed è stato portato avanti appunto da A2A con un filmato specifico per definire come mai il clima sta cambiando. È uno dei primi temi che spiega appunto ai bambini che cos'è il clima, che cosa sono le stagioni e come comprendere i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni. Segue poi, grazie sempre a A2A, ANSA e a COBAT, la definizione del ciclo dei rifiuti e di che cos'è l'economia circolare. Per spiegare ai bambini che con le loro azioni quotidiane, quindi andando a gettare in modo differenziato la carta, il vetro, il metallo, piuttosto che appunto per COBAT le batterie, questo porta appunto a compiere delle azioni quotidianamente normali che però vanno proprio nell'indirizzo di aiutare l'ambiente e di non peggiorare la situazione attualmente in essere, dove l'economia circolare diventa praticamente la base di questo riciclo dei rifiuti che ci consente con un circolo virtuoso di recuperare tutto il recuperabile di ciò che utilizziamo quotidianamente, trasformandolo, rendendolo qualcosa di nuovo o andandolo proprio a recuperare come materia prima. Un attimo, devo tornare indietro. Allora, ecco. Infine c'è il tema dell'energia. Come viene prodotta l'energia? Ma soprattutto che cos'è l'energia pulita. Quindi abbiamo le due società che come sponsor ci hanno supportato sin da subito nel progetto Imob, che hanno prodotto questi filmati dove rappresentano il significato di energia pulita e addirittura hanno ideato dei personaggi, quelli come vedete Beppe Turbina, Eolo, Gino Stufetta e Raggio di Sole, che vanno ad incarnare quello che sono le fonti rinnovabili, consentendo ai bambini di comprendere bene che cos'è una fonte rinnovabile e quindi pulita rispetto alle attuali fonti fossili che appunto vanno ad esaurirsi con il tempo. Infine il progetto PREPARE, che è un progetto coordinato dalla direzione educazione e quindi dall'assessorato all'istruzione, che è un progetto europeo finanziato dal progetto Life 15 e in parte da fondi europei specifici, rivolto proprio alla valutazione della qualità dell'aria e dell'aria del bacino padano e nello specifico alle azioni che si possono apportare per poter migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano. Nello specifico dall'anno prossimo, infatti rinviamo volutamente all'anno 21, ci saranno correlate al progetto scuole e i mob delle azioni di campagna informativa e formazione sulle scuole rispetto proprio ai temi che PREPARE raffronta e poi vedremo più nel dettaglio, nel filmato, che chiuderà questa presentazione. Passiamo appunto alle secondarie di primo grado, per cui ieri c'è stato un workshop che è durato alcune ore, dalle 9 fino alle 13.30, con adesione e partecipazione di società come RFI, A2A, Enel X, ATM, Edison, Cobat ed FCA, ed infine appunto con la presentazione del progetto PREPARE. Questo che vedete a destra è il volantino dell'anno scorso con alcune foto, diciamo, del workshop che si tenne presso Palazzo Città di Lombardia in Sala Biagi e che vide partecipi appunto, come accennavo prima, le secondarie di primo grado. Era una sperimentazione in realtà, perché nella nostra rivoluzione dal basso, così come abbiamo da sempre definito la conferenza nazionale per la mobilità elettrica, che parte appunto dagli enti territoriali come appunto i comuni e gli enti locali, per poi via via salire di livello fino ad arrivare al governo centrale, vuole che questa rivoluzione dal basso vada ad interessare ovviamente anche i nuovi cittadini, quelli che si stanno formando come tali. E quindi l'anno scorso abbiamo provato a coinvolgere aziende e come vedete qua sono rappresentate la 2A, ATM, Cobat, Edison, NLX ed FCA, a cui si sono aggiunti quest'anno altre aziende multinazionali, appunto come RFI nazionali, RFI e Bosch internazionali, che appunto hanno determinato allora un interesse per questa start up di progetto e quest'anno hanno consolidato il tutto producendo appunto contenuti didattici per i tre target che vi ho accennato, cui vi ho accennato. L'intervento di ieri è stato, il primo intervento è stato quello di RFI, che mostra non solo quello che è il proprio core business relativo agli spostamenti ferroviari in treno e appunto attraverso le loro linee e le loro stazioni, ma questo progetto direi abbastanza nuovo rispetto a quello che si conosce del business RFI, che è quello della mobilità intermodale, ovvero il progetto ambizioso di RFI è quello di trasformare le principali stazioni presenti su territorio nazionale per arrivare fino poi anche alle stazioni più piccole e di minor importanza in aree di mobilità intermodale che seguono appunto all'arrivo presso la stazione da parte dell'utente e consentono di scegliere varie modalità di prosecuzione del proprio percorso verso l'obiettivo cui sono rivolti, attraverso appunto dal trasporto pubblico locale a situazioni di kiss and ride, sosta urbana rotazione, park and ride, sosta stanziale, in parte appunto attuabili con il veicolo privato per poi passare invece al vero e proprio sharing con il bike sharing o con le bici stazioni, con il car scooter e bike sharing e la micromobilità, i taxi, il car rental e il corporate car sharing a questo aggiungo anche che il comune di Milano ad esempio propone il car pooling come progetto aggiuntivo allo sharing per appunto consentire il raggiungimento della città con l'utilizzo di macchine private ma che diventano una sorta di macchina privata in condivisione per diminuire il numero dei veicoli in circolazione in città. Si procede poi con il tema dell'energia dove A2A propone intanto quello che è la spiegazione dei contenuti dell'agenda 2030 e della policy che A2A ha rispetto al sviluppo sostenibile. A2A propone poi chiaramente visto anche il patrocinio che i MOB come conferenza nazionale sulla mobilità elettrica da appunto un focus sull'e-mobility e su quello che è il futuro della mobilità e di nuovi paradigmi correlati. Enel X che è un competitor sempre sulla mobilità elettrica oltre che Enel ovviamente per la produzione energetica ci presenta in un modo molto differente la mobilità elettrica fornendoci intanto quali sono gli elementi di discussione su cui e che compongono diciamo la mobilità elettrica ma soprattutto in modo molto interessante ci svela quali sono le fake news rispetto alla verità sulla e-mobility e quindi falsificazione miti correlati in questi anni al tema della e-mobility proprio per farci comprendere che molte delle informazioni erroneamente date anche dai social eccetera in realtà o per sentito dire in realtà hanno un fondamento assolutamente non scientifico e che molte di quelle informazioni sono proprio opposte rispetto a quello che è la reale situazione degli e-mobility, del prezzo, del costo, dell'utilizzo di un veicolo elettrico. Poi abbiamo appunto portato il trasporto pubblico. ATM in questo momento è promotore di un progetto importantissimo come quello denominato Full Electric che porta avanti ovviamente noi qui abbiamo voluto evidenziare tutto quello che ATM è rispetto alla propria offerta non solo di gestore del pubblico trasporto milanese ma anche che cosa rappresenta rispetto al trasporto pubblico e a tutto ciò che gira attorno a questo oltre chiaramente al tema della sostenibilità. La green mobility per il trasporto pubblico e nello specifico per ATM in questo momento, in questa fase storica diventa il vero e proprio motore dei nuovi progetti dedicati proprio alla trasformazione al 2030 totale del parco veicoli circolanti su gomma come appunto i bus e pone all'evidenza anche una serie di investimenti importanti rispetto sia alla sostituzione di bus ma anche poi alla realizzazione di una rete molto fitta di depositi modificati appositamente per questa riconversione di nuove modalità di ricarica ai capolinea e addirittura una modifica proprio nella organizzazione del lavoro che è determinata proprio dall'esigenza di una differente tipologia di mobilità rispetto a quella attualmente nota. Edison ci presenta invece nello specifico quello che è il proprio core business ovvero la produzione di energia pulita. Attualmente Edison ha una produzione in energia da fonti rinnovabili pari al 17% con una previsione al 2030 di arrivare appunto al 40%. Edison è presentata come una delle prime aziende di produzione energetica che non so se tutti lo sanno ha consentito l'illuminazione pubblica presso la scala di Milano ma non solo anche la produzione energetica sin dal 1800 attraverso le prime centrali idroelettriche che è la prima in assoluto quella lungo ladda attualmente ancora in esercizio e con gli stessi principi di produzione energetica utilizzati ad oggi per le centrali idroelettriche a questo si aggiunge ovviamente poi l'aria, la geotermia e il fotovoltaico che sono altre componenti molto importanti per la produzione di energia sostenibile e quindi per poi una mobilità che usufruisce di energia pulita e quindi contestualmente non si parla solo di mobilità sostenibile ma anche di energia che consente alla mobilità di essere sostenibile altrettanto green. Le scuole secondarie di primo grado hanno anche la possibilità di conoscere che cos'è l'economia circolare rispetto ad esempio al tema del recupero delle batterie nello specifico Cobat evidenzia come le batterie al litio abbiano intanto la possibilità di essere recuperate come ancora fonti di energia e secondariamente forniscano l'opportunità di recuperare materie prime importanti e anche queste esauribili e quindi quanto sia utile riuscire a recuperare le parti guarda, allora, ero riuscita a farti impostare il bonifico oggi soltanto che il progetto PREPARE il progetto PREPARE è appunto il progetto di cui facevamo cenno prima che è rivolto alle scuole primarie e in parte alle secondarie di primo grado con progetti specifici mirati di formazione scuola alla fine di tutto le secondarie di secondo grado alla fine ma non meno importante anzi è il progetto è la parte del progetto scuola di quest'anno più ambiziosa perché in realtà si sono voluti far creare dagli sponsor che hanno aderito a questa porzione di target dei veri e propri webinar che consentano la formazione per scuole superiori di figure come ad esempio proposto da Bosch specifiche sulla meccatronica e appunto ricercate dal mercato e la possibilità di avere poi un contatto diretto proprio con le aziende per progetti di continuità scuola lavoro o di stage propedeutici poi appunto alla formazione di figure professionali specifiche in questa città metropolitana per noi è stata fondamentale perché appunto ci ha consentito di avere il contatto diretto con gli istituti superiori quest'anno circa 30 tra Milano e città metropolitana nello specifico gli istituti professionali e gli istituti tecnici ad indirizzo meccatronica e meccanica ed elettronica ecco questi sono i contributi forniti dalle aziende che hanno aderito tra cui ci sono appunto A2A Edison con addirittura 4 gradi di formazione su tematiche differenti tra cui la transizione energetica il mercato elettrico e le fonti rinnovabili la mobilità sostenibile l'efficienza energetica diciamo che sia Edison che A2A che le successive società sponsor di questo progetto hanno dei programmi specifici aziendali che già attivati che consentono loro di collaborare con le scuole e portare avanti appunto le varie progettazioni di progetti di continuità scuola lavoro piuttosto che di stagio formativi ATM è una di queste che appunto ha delle previsioni di realizzare questo tipo di formazione già lo fa con alcuni istituti del comune di Milano e porta avanti appunto anch'essa a stage specifici per la formazione di figure non così facilmente rintracciabili su mercato dal momento che si tratta di figure molto specifiche rispetto alla guida dei mezzi piuttosto che alla loro manutenzione e alla gestione di tutta una serie di sistemi informatici che consentono poi di arrivare da parte di ATM e alla eccellenza che conosciamo perché non va su Cobat ecco stessa cosa avviene per Cobat che appunto presenta in modo un po' più dettagliato approfondito la propria idea di economia circolare e come questo avviene come il recupero delle batterie esauste principalmente le batterie al litio avviene nell'ambito del loro processo di riutilizzo sia della parte energetica rimanente sia dell'uso e del recupero dei materiali come appunto il litio e gli altri metalli preziosi contenuti all'interno delle batterie in modo da consentire il recupero appunto di prodotti molto costosi e sempre meno rintracciabili in natura Enelix e Bosch portano le loro due esperienze nel merito della mobilità sostenibile nello specifico Bosch presenta tre progetti uno relativo relativo tre diciamo proposte formative una relativa all'e-bike una al loro progetto allenarsi per il futuro dove campioni sportivi portano l'esempio di come si possa contrastare la disoccupazione giovanile attraverso quello che appunto è la formazione eccetera ma con la metafora dello sport ed infine la meccatronica la meccatronica che appunto per Bosch e oramai per quasi tutto il mercato degli mobility ha un ruolo fondamentale e pertanto la presentazione delle nuove competenze che un autoriparatore deve poter possedere per poter intervenire su veicoli ibridi e totalmente full electric e Nell'X va ad identificare rispetto al mercato tutto quello che è la propria offerta per far comprendere come il mercato degli mobility possa essere un vero e proprio mondo aperto sulla sulla realtà della nuova rivoluzione della mobilità infine abbiamo FCA FCA già realizza da anni progetti con gli istituti superiori ma appunto più con interventi più ristretti all'indotto del torinese ma ci presenta che cos'è FCA oggi rispetto al mercato degli mobility alla modifica del delle proprie industrie della produzione italiana con la riconversione degli impianti per la produzione in elettrico in Italia e di come l'innovazione nell'e-mobility abbia tutta una serie di risvolti anche di sostenibilità sociale molto interessanti ad esempio ieri ci veniva posto l'esempio di come un'industria di FCA presente in Sud America sia stata totalmente riconvertita a produzione di mascherine per far fronte appunto alla pandemia con ad oggi una produzione di circa 400 milioni di mascherine da quando hanno iniziato a produrre piuttosto che l'attenzione che FCA verso la natura e verso la quindi compatibilità ambientale anche in ambito della propria produzione per far fronte appunto a quello che vediamo qua in basso cioè all'inquinamento alla congestione e del traffico e alla fruibilità degli spazi da parte della persona qui ci sono alcune alternative di trattazione che vengono poi ampliate e approfondite con i corsi specifici prodotti da FCA per le secondarie di secondo grado ed infine qua vedete il logo che FCA che il gruppo di FCA che si occupa appunto di mobility e di sostenibilità nella produzione che è un gruppo estremamente giovane di professionisti e neolaureati eccetera che fanno con molta passione questo lavoro di sviluppo di anche di start up non solo progetti scolastici piuttosto che appunto l'attenzione verso la produzione green e quant'altro che addirittura si è creata un suo logo nell'ambito di FCA proprio perché vuole mostrare quello che i giovani possono fare questo l'abbiamo già visto ok questa è l'offerta formativa per le primarie secondarie di primo e di secondo grado cui si va aggiungendo il programma di progetto prepare che appunto va a andrà a svilupparsi dall'anno prossimo adesso vi presentiamo prepare il progetto life integrato che affronta la qualità dell'aria nel bacino padano e in slovenia i territori della pianura padana sono tra le zone più densamente popolate ed economicamente sviluppate d'europa l'elevata concentrazione di attività umane che emettono inquinanti in atmosfera e le caratteristiche orografiche che ne impediscono la dispersione influenzano la qualità dell'aria del bacino padano per affrontare questa sfida l'impegno delle singole città e regioni non è sufficiente è necessario uno sforzo coordinato di tutti gli attori del territorio nel progetto prepare 17 partner istituzionali italiani e uno sloveno lavorano assieme per la progettazione e la messa in pratica di azioni e piani per la qualità dell'aria prepare può contare su risorse per 17 milioni di euro cofinanziate dal programma europeo LIFE a questi si aggiungono gli 850 milioni di fondi complementari impiegati dai partner per incidere anche sulla qualità dell'aria prepare si focalizza su 5 linee di intervento trasporti biomasse efficienza energetica agricoltura monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria il sistema dei trasporti ha un pesante impatto sulla qualità dell'aria nel bacino padano prepare mira allo sviluppo di una mobilità più sostenibile per le persone e per le merci persegue questo obiettivo anche attraverso la formazione di operatori per la progettazione della mobilità ciclabile ed elettrica azioni dimostrative sulla conversione di veicoli diesel a tecnologie meno inquinanti razionalizzazione della logistica delle merci urbana e periurbana sviluppo di strumenti smart per gli utenti di trasporto pubblico promozione di uno stile di guida ecologica l'uso di legna e pellets in stufe e camini contribuisce in modo molto significativo all'inquinamento dell'aria le azioni previste dal progetto in questo ambito sono una più specifica formazione per progettisti ed installatori la maggiore sensibilizzazione della popolazione sulla corretta gestione della biomassa per il riscaldamento la qualificazione e valorizzazione della professione spazzacamino per la manutenzione degli impianti domestici l'analisi dei consumi di legna e pellets e della loro logistica cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo energia significa ridurre le emissioni inquinanti pre-per opera per formare e supportare le imprese nel campo dell'efficienza energetica formare progettisti artigiani e amministratori di condominio in merito agli edifici ad energia quasi zero supportare le amministrazioni locali nella riqualificazione energetica anche attraverso il green public procurement anche l'agricoltura e allevamento producono forti impatti sulla qualità dell'aria anche se questi aspetti sono forse meno conosciuti in questi ambiti gli interventi riguardano l'individuazione delle migliori pratiche per l'utilizzo di fertilizzanti a bassa emissione di ammoniaca lo sviluppo di un software per la valutazione delle emissioni e degli odori degli allevamenti animali è poi ovviamente fondamentale monitorare e valutare in maniera omogenea la situazione dell'aria su tutto il bacino padano a questo proposito PREPER sviluppa sistemi di monitoraggio e valutazione integrati tali da permettere in tutta l'area di adottare sistemi omogenei di valutazione della qualità dell'aria e delle emissioni inquinanti di gestire in maniera integrata le stazioni di monitoraggio di sviluppare modelli previsionali sulla qualità dell'aria di valutare e monitorare l'efficacia degli interventi messi in atto a livello di singoli territori e di bacino infine il progetto è impegnato in azioni di comunicazione e sensibilizzazione attraverso lo sviluppo di specifiche campagne informative particolare attenzione è rivolta alle nuove generazioni con percorso di formazione sulla qualità dell'aria rivolto ad insegnanti e alunni delle scuole Preper lavoriamo assieme per migliorare l'aria di 23 milioni di abitanti del bacino padano e della Slovenia grazie vi abbiamo presentato il progetto Preper che sarà l'anno prossimo uno dei nostri progetti di punta rispetto alle tematiche affrontate per l'ambiente e la mobilità appunto della direzione educazione attraverso